Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Beer Channel. Oggi parliamo della bigiarella. Il nome scientifico della bigiarella è Silvia Curruca. Assomiglia vagamente a una strepazzola, ma è molto più piccola, meno slanciata e con la coda relativamente più breve. Si riconosce però facilmente per il contrasto accentuato tra le parti superiori grigio-bruno e anche per le parti inferiori che sono più candide, a differenza della strepazzola che solitamente ce l'ha sul rossiccio. Ma ora vediamo dove vive. Gli piacciono molto zone estesamente ricoperte di cespugli, di media altezza e va meglio se sono folti e con spine. Vive anche a immagini dei boschi e in brughiere e solitamente la si trova anche in giardini e parchi. L'ambiente che predilige è la montagna e gli piacciono molto anche le piantagioni di conifere. Nelle zone in cui vive non possono mancare le piante che producono bacche, infatti adora il ribes, il sambuco e il mirtillo. La bigiarella oltre che sulle Alpi vive in tutto il resto d'Europa e prevalentemente nidifica all'est. In Italia invece appunto nidifica solo sulle Alpi dai 1.400 e 1.200 metri. Ma adesso sentiamo il suo canto. Ecco ragazzi, questo era il suo verso, come possiamo vedere molto simile a quello di altri passeriformi e di altri silvidi. Infatti, scusate se non ve l'ho detto, fa parte della famiglia dei silvidi questo uccello. Ma adesso distinguiamo i due sessi. Come potete vedere ragazzi la differenza tra i due non è molta e vi spiego. Quello a sinistra è il maschio che ha una parte un po' più scura sotto l'occhio e questa a destra è la femmina. Ma ora parliamo di nido piccoli e uova. Nella stagione degli accoppiamenti i maschi iniziano a cantare reclamando la loro presenza. Poi volano incontro la femmina con un volo sfarfallante. Dopodiché si esibisce in uno spettacolo in cui gonfia le piume del petto e rizza quella in testa con le ali che si agitano. Il nido viene costruito a 2-3 metri di altezza in un cespuglio spinoso. Il nido viene costruito con radichette, lanuggine vegetale, tele di ragno e anche foglioline. Le uova che vanno dalle 3 alle 7 vengono covate da entrambi i genitori per circa 12-11 giorni e i giovani nutriti sempre dai due genitori lasciano il nido dopo 10-11 giorni. Le uova vengono deposte tra aprile e giugno ed è impossibile una seconda nidificazione. Ma ora vediamo di cosa si nutre. Come abbiamo detto prima si nutre di bacche ma non solo di questo. Infatti mangia anche piccole preanimali come uova, larve e piccoli artropodi. Mangia anche coleotteri, lepidotteri e raramente arachnidi. E niente ragazzi il video finisce qui, è tutto da Biel Channel, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!